Contro la Juventus, Under 23 finisce 1-1 ed è il terzo pareggio di fila, il terzo che l'Arezzo subisce in rimonta. Ma stavolta il risultato è giusto e di rimpianti ce ne sono meno. Dal canto fa giocare Rolando dal primo minuto in una partita disertata dai gruppi organizzati della Sud per protesta contro le squadre B. Il presidente Lacava, dopo i giorni delle polemiche societarie, per la prima volta va a sedersi in panchina. Pronti via e la partita si sblocca subito. Brunori segna un gol alla Brunori, infilandosi in mezzo a due avversari e freddando Nocchi con una rasoiata di destro nell'angolino. Esultanza più che giustificata insieme a Cutolo per l'attaccante che era a digiuno dalle 26 dicembre. Il replay valorizza la giocata di Brunori, che alla Juve aveva fatto gol anche all'andata e che sale a quota 8 e ne classifica Marcatori. Gli Amaranto controllano possesso e partita, la manovra è vivace e la Juve va in difficoltà, presa spesso di infilata. Pelagatti e Luciani si avvicinano pericolosamente al raddoppio. Ma come succede? In questo periodo all'improvviso ecco la doccia gelata, Foglia perde palla a metà campo, l'assist di Nicolussi per Mavididi apre la difesa dell'Arezzo, posizionata male e il resto lo fa la velocità dell'11 bianconero, che in diagonale non dà scampo a Pelagotti, 1-1 e quarta rete stagionale per l'inglese. La gara è frenetica, l'Arezzo attacca e costringe la Juve a giocare solo di ripartenza. Qua Foglia prova a farsi perdonare l'errore sul gol e con una stilettata di Mancino sfiora il palo alla sinistra di Nocchi. La pressione a Maranto sale e il clamoroso errore di Turè in disimpegno mette Brunori davanti al portiere, ma stavolta la mira è sballata e l'Arezzo manca l'appuntamento con la svolta del match. C'è tempo per un'altra botta da distanza ravvicinata di Cutolo con Nocchi che ci mette i pugni. Il primo tempo finisce in parità. Nella ripresa la gara è più equilibrata, la Juve ci mette fisicità, l'Arezzo fa fatica nel fraseggio. Pelagotti deve stare con gli occhi ben aperti e viene chiamato in causa per la prima volta da Nicolussi dopo una svagatezza di Luciani. La risposta doppia è di Cutolo. Il capitano ci prova due volte anche sul calcio di punizione. Manocchi si conferma sempre ispiratissimo e attento quando affronta gli a Maranto e non fa passare nulla. Dal canto tira fuori Rolando, ai margini del gioco inserisce Belloni. La partita si placa, i ritmi si abbassano. Sul taccuino finisce un tiro di Zanimacchia parato da Pelagotti e poi tocca a Butic prendere il posto di Brunori. Più girano le lancette, più la manovra si ingolfa. La squadra arretra e subentra pure un po' d'ansia. L'arbitro De Santis concede cinque minuti di recupero che però servono a poco. Finisce uno a uno, un punticino che fa salire l'Arezzo al secondo posto insieme alla Cararese, dietro la coppia di testa formata da Provercelli e Piacenza. Ancora tutto può succedere.